Non c'è la campana, prima c'è la campana che una sora alza prima 5 minuti tru. La mattina svegliamo le ragazze col suono dell'organo e lo mandiamo in filo di fusione. Per me è bello svegliarsi con la musica e quindi penso che anche alle ragazze fa piacere svegliarsi con la musica. Per me è bello svegliarsi con la musica.